Saggese, premium partner Sciuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.P.A. Serramentisti per vocazione, dal 1982. Sarà inaugurata da un saggio intrigante e appassionante, su un argomento scolpito nell'immaginario popolare, la Rassegna Divina Cultura, promossa ed organizzata dal Comune di Viti sul Mare, in collaborazione con l'Associazione Generalisti di Cava di Tirrenia e Costa da Maffi, Lucio Barone. Sabato 23 aprile alle ore 10.30, presso il Palazzo di Città, sarà presentato il saggio il commissario Megri, 90 anni di indagini, di Domenico della Monica, con prefazione di Francesco Paolo Castaldo. Interverranno, oltre all'autore, Giovanni De Simone, sindaco di Viti sul Mare, Francesco Romanelli, presidente dell'Associazione Generalisti di Cava di Costa da Maffi, Lucio Barone, Franco Bruno Vittolo, dirigente dell'associazione stessa, che curerà anche la conduzione. Il commissario Megri, creato dal grande scrittore francese George Simenon, è stato nel secolo scorso, in campo letterario, il commissario più popolare al mondo, notando che i romanzi che raccontano le sue indagini sono stati tradotti in tutte le lingue e il personaggio è stato il protagonista di film sceneggiati televisivi. In Italia è rimasta indelebile nella memoria e nel cuore degli ultracinquantenni, la serie interpretata dal grandissimo Gino Cervi. Il libro di Domenico della Monica è una struttura originale, nei primi tre capitoli presenta lo scrittore Simenon e il personaggio Megri, e le relazioni che intercorrono letteralmente e psicologicamente tra il creatore e la sua creatura. Ma nella seconda parte è incentrato su forme di scrittura creativa, su un'intervista impossibile a Simenon e addirittura con un piccolo giallo formato Megri, carico di umanità e di comprensione psicologica dal titolo Il delitto della Crestarella, ambientato a virgisulmare, patria dell'autore, medico di professione e scrittore per passione.